segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te chance ha di vincere in lombardia ma io credo che ce la giochiamo davvero e che saremo la sorpresa di questa campagna elettorale stiamo creando un'alleanza molto ampia che ha dentro come dicevo anche liste civiche che ha l'appoggio tra l'altro di beppe sala che mi spiace dirlo a sallusti ma insomma mi sostiene con convinzione abbiamo non so emilio del bono sindaco pragmatico e molto riformista di brescia che sarà candidato anche lui in consiglio regionale a dire che stiamo costruendo un'alleanza ampia ambiziosa perché io credo che c'è bisogno di un cambiamento radicale in lombardia su alcuni temi penso di essere moderato e pragmatico certo sono estremamente preoccupato di come sta messa la sanità in lombardia la sanità pubblica che va rilanciata che è diventata molto discriminatoria in una terra che fa attendere anche 24 mesi un bambino come si fa con problemi di salute mentale per con problemi di salute mentale per una visita al reparto di neuropsichiatria infantile ma credo che su questo terreno debba cambiare radicalmente sono molto determinato ecco preferisco essere definito come determinato piuttosto che come estremista ma poi lascio a salusti le sue valutazioni insomma le rispette che ci conosciamo ci conosciamo da tempo ma noi stiamo facendo un'alleanza per il futuro che guarda al tema della salute e della sanità con grande preoccupazione e quindi a me fa molto piacere che ci siano figure come lui in gioco come c'è un mondo legato alla sanità pubblica molto deciso e determinato che sarà il cuore di questa campagna elettorale perché io credo che la nostra sanità è diventata discriminatoria ed è purtroppo in una regione che ha tante eccellenze Maiorino ma sarà altrettanto determinato nel dimettersi da europarlamentare sia che vinca sia che perda? Allora la domanda porta un po' Iella perché prevede il fatto che io risponda anche nel caso di sconfitta però io sicuramente smetto di fare il parlamentare europeo quindi anche dovessi perdere mettiamola così Gruber anche dovessi perdere sarei in consiglio regionale questo ci mancherebbe fa parte del mio modo di intendere la politica la ringrazio però della domanda Allora vorrei chiedervi della manovra di Giorgia